Il servizio importante per l'utenza, per i cittadini, qui parliamo della salute. E uno dei temi importanti che ruotano intorno alla salute è sicuramente quella dei nostri denti. Ma come riuscire a strutturare e riorganizzare questo servizio, questa modalità di concessione del servizio e quindi superare quella che poi era stata l'impostazione o del servizio tontoiatra troppo pubblico ospedaliero con ritardi tempi oppure troppo privato dove i costi purtroppo diventavano un problema vero. Ecco, a questo si è posto un problema, si è posto una soluzione a questo problema. Grazie alla Cassa Mutua Dentistica. Ringraziamo qui la presenza del direttore generale di questo ente che è il professor Giovanni Carnovale. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera professore. Ecco, perché questa Cassa Mutua? Sì, dunque il perché la Cassa Mutua è una risposta che bisogna dare ponendosi ancora prima la domanda perché c'è la necessità di una cosa del genere, perché è venuta fuori quest'idea. Quest'idea è venuta fuori da un'esigenza di mercato, un'esigenza di necessità delle persone, delle cittadini. Il sistema sanitario nazionale, che ora festeggia il suo anniversario, quindi dobbiamo rendere grazie al legislatore che ha immaginato primi nel mondo un sistema del genere, in quanto il legislatore ha cercato di estendere universalmente la disponibilità sanitaria a tutti e ci è riuscito in parte. Ci è riuscito tanto, ma in alcune aree della sanità meno, come l'odontoiatria. Se il sistema sanitario nazionale ha cercato universalmente di estendere le proprie prestazioni, nella medicina generale vi è riuscito a un 65-70%, questa è l'oscillazione dei dati. Quindi il 65-70% della popolazione dei cittadini italiani, diciamo anche unici nel mondo, perché in tutto il resto del mondo non esiste, quindi bisogna rendere grazie al legislatore che ha inventato questo sistema. Nell'odontoiatria invece il problema rimane, è un problema anacronistico, storico, la copertura del sistema sanitario si estende al 5-10%. Lo dicevamo, e quindi in realtà c'era l'esigenza per l'utenza di qualcosa di nuovo. Di inventare qualcosa, sì. Di fatto il sistema sanitario nazionale, nella ricerca della sua universalità, l'odontoiatria ha fallito, tant'è vero che si sono nel tempo prodotti delle società enti, casse mutue, minori, minoritarie, che hanno cercato di sopperire al problema principale, quindi l'odontoiatria dei denti, e anche queste però con scarso riconoscimento ufficiale, perché non si è mai capito se fossero pubbliche o private. La mia iniziativa, che poi fa riferimento a un pool di professionisti, che io cerco di dirigere al meglio, cercando di fare il possibile, nasce quindi a monte come ricerca di risolvere il problema della persona che non si può poi permettere spese, come lei ha detto. A volte spese improvvise, no? Improvvise. Perché in realtà il problema è che non è programmabile. Non è programmabile, esattamente. Non è che poi è programmabile il grande intervento. Cioè il corpo ci dà dei segnali, ma poi alla fine c'è il rischio che ci troviamo di fronte a dover dare delle cure immediate, ma sono non programmate nelle nostre spese. La cassa mutua serve proprio per risolvere questo problema. Esattamente. Lei ha focalizzato perfettamente l'obiettivo. Innanzitutto si parte da una necessità etica, no? Mi piace sottolinearlo perché io avrei potuto tranquillamente continuare la mia professione, grazie a Dio, mantenendo quegli standard che già avevo in essere con i miei pazienti, eccetera. Ma è nata proprio da un'esigenza di poter aiutare tutte quelle persone, lo dico con affetto proprio, anche per le mie origini culturali, che mi chiedevano poi, ma io come faccio a spendere tutte queste cifre per curare l'emergenza che mi è sopravvenuta? E sa quanta gente dovevamo necessariamente mandare via secondo i vecchi schemi? Paradossalmente questa gente non riesce, non riusciva neanche ad essere sorretta appunto dai centri... Abbiamo creato un sistema che avvicina la domanda dell'utenza, e quindi la domanda dei pazienti, delle persone, all'offerta che è il servizio d'ontogliata di qualità, che è quello che lei ha cercato di mettere insieme all'interno della cosa. Mettiamo un po' di ordine. Mettiamo un po' di ordine. Vediamo, partiamo dall'inizio. Che cos'è un sistema sanitario di base? Da cosa è composto? Esiste il medico di base. Vediamo l'ultimo corso di formazione e sentiamo questi giovani aspiranti medici di base cosa dicono nelle interviste. Voi siete studentesse del corso di formazione di medicina generale. Perché avete fatto questa scelta? Questa scelta, per quanto mi riguarda, è stata fatta come una seconda scelta. A me piaceva anche molto la psichiatria, poi ho fatto il concorso per la medicina generale, è andato bene e ho pensato che potesse essere interessante. Effettivamente a tre mesi all'inizio del corso mi sento dire che comunque è un percorso formativo sia interessante ma anche utile, nel senso che poi l'assistenza primaria in Italia è un po' sottovalutata rispetto magari alla medicina specialistica, invece penso che sia francamente una risorsa. Per me, perché la medicina generale ti dà l'opportunità di seguire un'intera famiglia. Credo che non ci sia niente di più bello che prendere un bambino dai sei anni e seguire tutto il suo percorso, seguire i genitori, seguire i nonni, quindi è pieno di sfaccettature. Ma vi sentite un po' discriminate rispetto ai vostri colleghi specializzanti che hanno una borsa di studio piuttosto superiore rispetto alla vostra? Beh, in parte sì, c'è un po' questa differenza con gli specializzanti, cui risentiamo. Io ci tengo al fatto che questa non diventi una lotta appunto tra specialisti e medici di medicina generale, sia adesso, durante il percorso formativo, che do. Mi sembra inutile screddarsi tra colleghi. Certo è che il trattamento economico è molto differente, di cui comunque bisognerà tenere conto facendo questa scelta. Penso che inizialmente la differenza sta nei ritmi di lavoro. Noi quello che possiamo fare al massimo sono sostituzioni in guardia medica, quindi abbiamo uno stipendio di base che poi possiamo implementare appunto con queste sostituzioni. lo specializzando a degli orari che sono più impegnativi, alle notti, alle guardie. Potremmo dire, professore, che in realtà la nascita della cassa mutua dentistica in realtà cerca di dare quel senso di responsabilità che è la medicina di base, cioè quella di guardare alla fine il paziente un po' se ti dà dei segnali generali e dopodiché lì cercare di mettere in piedi tutte quelle cure di sistema sanitario specialistico. In realtà voi con la cassa mutua fate un po' così. In realtà uno può avere una serie di problematiche di carattere odontoiatra e poi in realtà con la cassa mutua programmate tutta una serie di, diciamo così, una cura di lungo periodo, cioè non si tratta del rapporto di breve, si tratta di poco che le persone si legano a voi, cioè si legano alla cassa mutua e quindi in realtà possono programmare la loro cura per loro, immagino per i loro parenti, per i loro affini, i figli. C'è una programmazione. Lei ha focalizzato in modo esemplare il ruolo della cassa mutua e l'accostamento con la medicina di base generale è perfetto perché se nella medicina generale la medicina di base riveste un ruolo importantissimo e lo è, le dottoresse che stanno facendo questo corso sono il primo esempio, mi pare che sono pochi anni che si è avviato questo corso di formazione necessario che porterà sicuramente la medicina di base a una specializzazione. Quindi come vede il problema è sollevato perché loro si sentono, tra virgolette, discriminati, in realtà è un termine improprio perché loro sono più importanti del medico, dello specialista, in quanto il bravo medico di base è anche uno specialista di tutto, ma è uno specialista, quindi è determinante il ruolo del medico di base. Ed è il sistema sanitario nazionale carente di questo che le ho detto prima, sta cercando di valorizzare, questo è un esempio, questi corsi sono un esempio, queste dottoresse hanno avuto l'entusiasmo di come si approcciano. La stessa cosa nel mondo odontoriato, l'odontoriatria è una disciplina della medicina che ha un'odontoriatria di base, come lei ha focalizzato in modo esemplare, ripeto, che andava trascurata, cioè non c'è, prima dell'esistenza di questa cassa mutua il trattamento generale non veniva per niente considerato, si passava da un rapporto di emergenza alla specialistica, invece la fidelizzazione del paziente è quello che le ha evidenziato, cioè si prende il paziente dall'inizio e lo si segue nei quattro anni minimi che la cassa mutua prevede. A questo mi piace... Potremmo dire quasi che voi trasformate il paziente in persona, cioè voi in realtà... Si chiama fidelizzazione del paziente. Non trattate più la persona solo come malato, ecco, malato di una malattia di odontoriatria, cioè tu sei una persona, se ci programmiamo, se io ti seguo dal punto di vista della tua, diciamo così, funzionalità dell'apparato... Stomato ignatico. Si, questo qui in realtà ti porterà nella vita a avere tanti benefici e non avere alla fine delle grandi problematiche che potrebbero nascerti o comunque ci sono delle grandi problematiche, io ho la prevenzione, cioè io riesco a prevedere quello che potrebbe nascerti. Ha focalizzato l'obiettivo. La cassa mutua dentistica punta, così come è una medicina di base, punta tutto il suo essere, la sua esistenza sulla prevenzione. Quindi la fidelizzazione del paziente lo si prende, come diceva la dottoressa nella medicina di base, da piccolo e lo si porta avanti prevedendo la prevenzione e prevedendo quindi le emergenze in modo che non diventino emergenze. Quindi questo con un risparmio notevole di costi, nel nostro caso per la nostra cassa mutua, ma alla fine del sistema sanitario nazionale, no? Assolutamente. A questo va aggiunto, brevissimamente, che la cassa mutua, proprio per lo spirito che lei ha evidenziato, ha creato dei dipartimenti. Per cui il paziente per noi non è solo un paziente odontoiatrico, ma lo trattiamo e lo guidiamo anche in altre necessità. Abbiamo creato un dipartimento di psicologia, che è diretto dalla dottoressa Cacciani, che ci ha seguito dall'inizio in questa iniziativa. E così come abbiamo creato un dipartimento di medicina generale, perché l'odontoiatria, fino ad oggi, era stata vista solo come una branca super specialistica. in realtà non dobbiamo dimenticare che una sana prevenzione della bocca può arrivare a una diagnosi di leucemia, può arrivare a una diagnosi di diabete e di altre patologie sistemiche determinanti per il paziente. Quindi abbiamo creato un dipartimento di medicina generale all'interno della cassa mutua. Vediamo questa clip breve, che ci fa capire, effettivamente, diciamo così, fa capire i bambini, spero che lo capiscono gli adulti, ecco. La prevenzione, la prevenzione. L'importanza di curarsi i denti. Vediamo questa clip. La prevenzione, la prevenzione, la prevenzione, la prevenzione. La prevenzione, la prevenzione. La prevenzione, la prevenzione, la prevenzione. Beh, si comincia da lavarsi lì bene i denti. Da bambini, vedi? Quindi la prevenzione che è determinata dagli studi anglosassoni. Se lei ha un bambino americano, la prima cosa che gli si insegna è lavarsi i denti. Da noi invece ancora questo è un insegnamento che dobbiamo portare avanti. La cassa mutua ha anche questo aspetto, questa sua finalità. Questa idea comunque di dire il piccolo dentifricio al bambino regalato alla fine. Esatto, regalato. Perché in realtà dà l'idea di dirti, mi raccomando, questa è una cosa importante rispetto a questo sicuramente. Allora, andiamo, però adesso cominciamo a entrare. So che lei è molto impegnato, si è fatto anche un'idea generale del sistema sanitario. Non c'è dubbio. Sta attento e entra nel dibattito sul sistema sanitario nazionale. Mi sembra che nella scorsa legislatura abbiamo avuto alcuni cambiamenti rispetto ai LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza. E su questo si è dibattuto molto. Il problema è che nessuno ha ancora mai risolto i problemi dei pronto soccorsi, se si stanno riducendo i posti di letto. Qui da noi abbiamo avuto in trasmissione anche un direttore generale molto importante, come il Poliglione d'Orvergata, la dottoressa Tiziana Frittelli, il quale ha dimostrato numeri alla mano che se in realtà si amministra bene una struttura importante, grande, i posti di letto solo aumentano. E se aumentano i posti di letto, si può tendere anche a ridurre, diciamo così, i disservizi all'interno del pronto soccorso. Insomma, non è solo questo, diciamo, il problema. Ecco, lei cosa ne pensa oggi del Sistema Sanitario Nazionale? Il Sistema Sanitario Nazionale italiano, che è un fiore all'occhiello, come dicevo prima, per la medicina generale e specialistica, ha alcuni problemi che deve risolvere. Il primo è sostanziale, è il binomio che si è creato negli anni tra quella che è la ricerca scientifica e l'applicazione poi nel Sistema Sanitario Nazionale. Questo binomio va risolto. Va risolto a vantaggio di una terza soluzione, di un terzo soggetto, che è proprio regolamentare questi due filoni. Non si può prescindere dall'industria e far finta che il Sistema Sanitario Nazionale non abbia bisogno dell'industria. Questo è un po' un atteggiamento ipocrita, l'unico che io riconosco e con cui non sono d'accordo. Vivendo molto l'ambiente anglosassone, americano in particolare, che è espressione dell'industria e del privato, credo che la verità, come in tutte le cose, sia nel mezzo. Quindi, a mio giudizio, il Sistema Sanitario Nazionale, che ha funzionato per tanti aspetti, se da un punto di vista accademico si può definire come primo pilastro della sanità italiana, deve necessariamente interloquire con quello che è il secondo pilastro, quello che per definizione accademica viene definito secondo pilastro, cioè l'attività privata. Per il privato, intendendo, non il pagamento privatistico del paziente, ma l'intervento nel Sistema Sanitario Nazionale dell'industria, in modo da facilitare il compito, perché non possiamo dimenticare che se il paziente deve fare in tempi brevi una risonanza, la risonanza va comprata. Quindi, la soluzione, secondo me, sarà in questo, cercare una, il legislatore deve sforzarsi di regolamentare l'intervento dell'industria e quindi del privato nel Sistema Sanitario Nazionale. Quello che sta tutto sommato, la Cassamuta Dentistica, ha avuto come ispirazione. Vediamo perché si è festeggiato i 100 anni del Sistema Sanitario Nazionale. Vediamo questo video alla presenza del Presidente della Repubblica. Quarantesimo anniversario dell'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, un servizio sanitario pubblico e universalistico voluto da una donna, dal primo ministro Donatino Anselmi, donna come l'infermiera, la donna, la nurse, con lei che nutre la vita. E oggi 440.000 infermieri sono un esercito che sta in prossimità dei cittadini, nelle case, sul territorio, nelle corsie di ospedaliere e porta con sé quei principi fondativi del sistema sanitario pubblico e universalistico. Quello che dobbiamo tenere ben presente è innanzitutto il concetto fondante del volontariato, quindi sia quello che è il discorso della volontà sia il discorso di voler fare qualcosa e è da qui che deriva appunto la grande potenza, la grande forza del volontario. Da utenti a cittadini, da malati, pazienti, a promotori di salute e così è stato anche per le organizzazioni, organizzazioni di malati che si sono trasformati in organizzazioni attente al bene comune, attente a che i servizi fossero ugualmente accessibili. La ricerca scientifica è uno dei componenti fondamentali di quello che a me piace definire un miracolo italiano, il Servizio Sanitario Nazionale. Io credo che la ricerca scientifica sia la prospettiva e la speranza per i nostri pazienti e la speranza per i nostri giovani, il loro cuore e la loro intelligenza. La salute è fatta di determinanti sociali e non soltanto di interventi sanitari che devono essere certamente allo stato dell'arte, secondo le evidenze scientifiche, disponibili ma anche essere calati dentro un contesto che è quello di una comunità. La prevenzione, la salute mentale, la partecipazione dei cittadini sono dei valori che oggi, insieme con il rispetto dei diritti e soprattutto dei diritti umani delle persone, devono essere al centro di un sistema di salute che non è solo un sistema sanitario ma che vede questi cittadini protagonisti di questi percorsi. La tempestività che c'è stata nell'intervento di tutte le diverse componenti a partire dal sistema dell'urgenza-emergenza a continuare con la medicina di famiglia e con tutti gli elementi e la capacità di integrarsi da parte di tutti gli attori di quello che è un sistema complesso che si trovava ad agire in situazioni di particolare e straordinarietà. L'obiettivo di oggi oltre alla celebrazione dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale deve essere quello di porre l'attenzione sulla formazione di giovani medici italiani. Come avviene in sanità? Abbiamo cominciato dall'emergenza. L'emergenza è trovare il personale che tenga in piedi i servizi sanitari. Ci sono concorsi che vanno deserti e questo è un paradosso. Ci sono posti di lavoro che vengono lasciati nel pubblico per andare al privato sia da parte dei medici che da parte degli infermieri. C'è una classe di lavoratori che è insoddisfatta per le condizioni di lavoro. Ecco, queste sono tutte emergenze su cui stiamo lavorando. Un'altra emergenza era intervenire sul settore del farmaco e quindi abbiamo messo in piedi un tavolo che ha prodotto un documento importante di riforma della governance farmaceutica. Lo stesso stiamo facendo su dispositivi medici e insomma su tanti altri capitoli. Un altro aspetto fondamentale per me è i tempi d'attesa delle prestazioni. Questo sul versante dei servizi ai cittadini per cui anche lì ho cercato di agire il prima possibile raccogliendo i dati stendendo il nuovo piano nazionale di governo in lista d'attesa ed infine istituendo un numero nazionale il 1500 un numero di pubblica utilità a cui si possono segnalare i servizi. Dovremmo dire al ministro che sul secondo pilastro si è fatto poco. Perché, professore? Si è fatto poco e si sta ancora facendo poco perché il secondo pilastro è ancora identificato come area privatistica. Quando si parla di una cassa mutua ancora si intende almeno fino ad oggi si intende una struttura privata che interviene nel pubblico quasi rompendo degli equilibri. In realtà non è così perché il secondo pilastro è proprio lì quello che dicevo prima l'evoluzione del sistema sanitario nazionale come vede dal filmato che abbiamo visto fino adesso qualche minuto fa sono venuti fuori due argomenti importanti. Uno è la politica sociale. Il sistema sanitario nazionale non può dimenticare che esiste una politica sociale ma non può dimenticare neanche che esiste una ricerca visto il ricercatore e il politico che faceva questo appunto. Quindi ritengo ancora e sottolineo che la verità e la soluzione deve essere necessariamente la ricerca di un rapporto di collaborazione tra il sistema sanitario nazionale la ricerca guidata dallo Stato ma anche dal privato che deve intervenire e infine in modo quasi obbligatorio da una politica determinante dello Stato che crei il rapporto tra i due non si può lasciare al caso l'incontro tra i due soggetti quindi se prendendo come riferimento gli Stati Uniti dove è tutto privatistico e da noi dove di presunzione dovrebbe essere tutto pubblico la verità sta nel mezzo il ruolo della cassa mutua che noi abbiamo creato così come quelle già esistenti che rappresentano questo benedetto secondo pilastro è proprio quello di mediare tra i due soggetti in modo da arrivare a una soluzione che a brevi tempi come dice il Ministro perché di soluzione del problema intervenendo però con e su questo sono pienamente d'accordo con una guida dello Stato a cui deve essere delegata necessariamente la sanità non si può avere un atteggiamento totalmente privatistico nella nostra cultura dove non siamo abituati a questo tipo quindi ecco la mediazione tra i vari soggetti tanto è vero e questo però noi ci stiamo arrivando a questa soluzione perché man mano che la gaussiana cioè la curva di ottimizzazione del sistema sanitario nazionale sta scendendo inevitabilmente dall'altra si sta incrociando con quella del secondo pilastro quindi si arriverà a questo benedetto punto di incontro necessariamente magari guidati da quello che sta diventando il terzo pilastro il terzo soggetto operante su questi argomenti che è il welfare che vuol dire welfare inteso nella sanità vuol dire che gli enti pubblici ministeri e anche le aziende private stanno aiutando in modo determinante il lavoratore o il dipendente pubblico a cui la Cassamuta si ispira non dimentichiamoci che la Cassamuta dentistica nasce per volere del ministero delle finanze e quindi nell'ambito di pubblico in assoluto per facilitare proprio il dipendente pubblico all'approccio verso le problematiche dentistiche quindi stavo dicendo utilizzando questo terzo pilastro che è il welfare il welfare inteso come benefit da parte del dipendente scusi dell'ente di lavoro azienda o ente pubblico quindi dal datore di lavoro che aiuta che inserisce il welfare diciamo così allarga il welfare pubblico con un suo contributo a favore del suo dipendente che ha dei vantaggi ovviamente per il dipendente enormi perché se il dipendente ha un benefit inteso in soldi nella busta paga di qualche euro può facilitare in modo più facile accedere ai benefici che è offerti da questo secondo pilastro ci sono tanti esempi ci sono aziende già parastatali che lo stanno già distribuendo tipo Invitaglia la stessa RAI ormai ha in sé nei propri statuti questo benefit ma si arriverà anche ad ottenerlo dai ministeri quindi dai grossi enti pubblici per aiutare il dipendente quindi ecco come vede torniamo al problema principale che è quello di trovare i meccanismi per poter facilitare il dipendente a un approccio un incontro tra come diceva Bissimo lei tra il sistema pubblico e quello privato è la soluzione la soluzione in odontoiatria sta funzionando e ci auguriamo che la cosa possa anche migliorare con il passare del tempo sappiamo che lei però già questo immaginiamo che le sottrae molto tempo e molta attenzione ma lei è molto impegnato anche dal punto di vista culturale e come può cadere nel 2019 come si direbbe a fagiolo rispetto al fatto che quest'anno in Italia c'è una città che diventa capitale della cultura europea vediamo la clip per aver guardato Grazie a tutti. Lei è impegnato su un progetto artistico? Sì, innanzitutto Matera è la mia città, quindi io sono originario di là, mia madre è nativa di Matera e io amo Matera, solo che fino a qualche anno fa io quando dicevo di essere di Matera la gente non riusciva più, non sapeva neanche dove fosse, sapeva a malapena che era nel sud Italia. Oggi grazie a questa iniziativa europea, quindi bisogna dare ancora credito all'Europa, altro che dobbiamo amare l'Europa. Quindi grazie a questa iniziativa europea Matera comincia a essere finalmente, a meritare quello che da anni mostra a tutti e i sassi di Matera sono un esempio di cultura che si è sovrapposta in modo orizzontale nei secoli, tanto da vedere con un colpo d'occhio, si riesce a vedere la grotta dell'uomo preistorico, del neolitico fino ad arrivare al risorgimento medioevo, risorgimento con un semplice colpo d'occhio. Questa è la grandezza di Matera. La sua attività teatrale? Io sono di Matera, siamo proprietari di questo teatro nella città, teatro che è il punto di trait d'union con i discorsi che facevamo prima, che il 16 giugno è prevista la giornata nazionale della cassa mutua dentistica, nell'ambito di un calendario importante, perché Matera ospiterà in quest'anno degli eventi incredibili. Il mio approccio culturale verso la città è per la proprietà del teatro che ha mia madre e quindi trovo gioco facile poterlo fare. Il mio impegno sarà ed è quello di portare più eventi possibili in quella città, il più importante è quello che riguarda la mia specialità, per cui la giornata nazionale dove ospiterò, spero di ospitare tutta l'ambiente politico relativo alla sanità e anche... Perché curarsi bene è anche sinonimo di cultura. È cultura. Cioè è cultura la cura della persona. La cura della persona è cultura ed è lì, ed è quello il successo. Bisogna cercare di far capire al cittadino italiano che la sanità è prima di tutto prevenzione, quello che dicevamo prima. Quindi cultura, quindi un approccio popolare, così come negli statuniti fanno quando presentano i vari congressi, non invitano solo i medici, invitano anche i pazienti. Questo è il segreto, no? Quindi cultura sanitaria, ma cultura anche, divertiamoci anche con altre iniziative, Quindi speriamo di portare, sicuramente sto organizzando con il ministro dell'agricoltura ed è previsto in maggio una grande convention sull'enogastronomia a Matera. Non dimentichiamo che Matera, anzi questo purtroppo lo sanno pochi, Matera è sede di patrimonio UNESCO, in realtà di due patrimoni UNESCO. Uno è il bene immateriale, sono i sassi di Matera. L'altro invece è un bene immateriale, cioè uno è il bene immateriale e l'altro è un bene immateriale che è la dieta mediterale. La sede della dieta mediterranea, del patrimonio UNESCO, dieta mediterranea, è tutelata dal patrimonio UNESCO, no? La sede è Matera? Esatto, vede, non lo sa quasi nessuno. Non lo sa nessuno. La dieta mediterranea si teorizza nel Cilento, poi si sporsa nelle Puglie, ma in realtà il primo riconoscimento ufficiale l'ha avuto Matera, dedicandogli questa sede che poi è presso la Camera di Commercio della città e che però ancora non conosce nessuno. Quindi sarà un'occasione importante, nel 12 maggio facciamo questo convegno col Ministro dell'Agricoltura, Giovanna Matera, dove cercheremo di far divulgare anche questo secondo messaggio, che per l'appunto è la dieta mediterranea. Mi sembra veramente molto importante come iniziativa, ripetiamole, quindi la prima data col Ministro dell'Agricoltura sul... Il 12 maggio. Il 12 maggio. A Matera, sì. E poi la seconda data... Il 16 giugno per la cassa. Ora, la dieta mediterranea, quindi mi rifaccio sempre a quello che diceva lei, alla cultura medica, no? Che è quello dove cerco sempre di non scantonare più di tanto. La dieta mediterranea è salute, cioè ci sono riconoscimenti ufficiali. Il miglior riconoscimento ufficialissimo è che l'età di sopravvivenza del paziente, del soggetto che si alimenta con alimenti proprio della dieta mediterranea, è superiore di 10 anni alla media. Perché è il complesso delle sostanze, vitamine, proteine, c'è una completezza alimentare che ci rende maggiormente immuni, cioè aumenta la nostra capacità immunitaria rispetto ai fenomeni esteri. L'olio d'oliva, tipico di quella zona, ha i migliori antiossidanti. Guardi, è stato veramente prezioso il suo contributo, dalla cassa muta... Io la invito a tutti e due gli eventi, così avrà modo di vedere quella splendida città. Vedremo sicuramente a darle una mano, se servirà verrò anche a condurre gli eventi, se le potrà essere di ausilio, auspicio, perché quando bisogna esaltare la nostra bella Italia, esaltare le nostre, tra virgolette, grandi qualità professionali, ma anche agroalimentari, noi di Scienze del Lavoro siamo in prima fila. Io ringrazio il professor Giovanni Carnovale, direttore generale della Cassa Mutantistica italiana. Grazie, professore. Pubblicità. Grazie. 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 Grazie.